Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video sto veramente improvvisando, non era previsto questo video ma ho deciso di farlo perché voglio raccontarvi la mia serata di ieri sera, sono stato ad un evento qui a Roma organizzato da Multiplayer.it in collaborazione con Sony era un evento di presentazione di Il Famous Second Son ci hanno fatto provare il gioco, c'erano un sacco di situazioni di prova con la demo ci ho giocato, ho finito la demo ben due volte vi parlo prima del gioco e poi dell'evento che mi piace un sacco, con anche una sorpresa allora, il gioco mi è sembrato molto bello, nel senso posso giudicare soltanto il gameplay e mi è sembrato veramente buono, fluido, divertente, immediato non so magari se avete giocato Il Famous ma lo stesso tipo di gameplay insomma, leggero, spensierato, cacerone, però fatto bene, non fatto a cazzo quindi veramente veramente buono fighissimi poteri del fumo e del neon di Delsin ovviamente bello, bello, ma la cosa che più mi ha stupito è il lato tecnico il lato tecnico è veramente impressionante penso si possa parlare del primo vero gioco next gen perché, a parte che ha dei giochi di luce e ombre che sono una cosa impressionante veramente e poi si attuali a riprodotta benissimo nel senso che è una città veramente viva, fatta bene grande, è veramente bella, bella, bella la grafica oltretutto è pazzesca in ogni dettaglio non c'è qualcosa che sia lasciato un po' più così è tutto fatto veramente bene e bene i volti neanche a dirlo e ripeto, la fluidità anche quando ci sono tante cose su schermo non molla mai proprio, neanche un frame è veramente fantastico tecnicamente veramente impressionante e fantastico ripeto, gameplay c'era soltanto una missione lì in cui bisognava recuperare dei pacchi di droga una roba del genere, insomma tra l'altro c'era anche una cazzina iniziale di un paio di minuti che non si poteva saltare io sono stato costretto a guardare praticamente il pavimento per non spoilerarmi la missione cioè per non spoilerarmi quel pezzo di storia però bello, veramente veramente bello sono rimasto favorevolmente impressionato dal gioco e mi è salito un hype che prima francamente non avevo io il gioco l'ho già prenotato quindi lo prenderò al day one in special edition però non avevo tutto questo hype che ho adesso dopo averci giocato veramente veramente bello e questo per quanto riguarda il gioco ma l'evento in sé è stato molto bello molto piacevole con una sorpresa che mi ha lasciato veramente di stucco allora era previsto l'arrivo di aspetta che il nome non me lo ricordo mai Ken Shram così si lega non so come si legge comunque vabbè che è uno degli sviluppatori dei Sucker Punch appunto che ha che ha diretto lo sviluppo del gioco e veno lì ci ha ci ha spiegato un po' il gioco ci l'ha introdotto ha risposto alle nostre domande è stato tutto molto interessante devo dire ma la vera sorpresa che io non avevo letto quindi non so se poi è stata una cosa all'ultimo momento oppure era proprio una sorpresa io non l'avevo letto da nessuna parte c'è stato Troy Baker ospite cioè Troy Baker per quei due o tre che non lo conoscono è penso uno dei doppiatori più famosi nel mondo dei videogiochi cioè quello che ha dato voce e movenze a Joel in The Last of Us a Joker nei giochi di Batman a Booker DeWitt in Bioshock Infinite in Vincent Bruce in Catherine proprio cos'altro comunque una marea di altri giochi ci sto dicendo i più famosi ma ce ne sono veramente tanti altri se scrivete Troy Baker su Wikipedia vi esce un papiro di giochi a cui lui ha collaborato e adesso ha fatto anche Delsin in Famous Second Song ma addirittura di Delsin non fa soltanto voce e movenze ma anche il volto cioè Delsin ha la sua faccia e per me è stato è stato veramente bello poterlo conoscere singergli la mano scambiarci due paroline e farmici anche una foto che magari vi metterò intanto a schermo perché è veramente cioè è figo cioè ne senti parlare sempre per magari quando quando ci sono le nomination e VGA perché soprattutto quest'anno Voight con Booger e con Joel era candidato al miglior personaggio insomma uno importante voglio dire è stato veramente bello poterlo vedere lì al vivo e ecco stringergli la mano tra l'altro anche la cartolina di Infamous autografata sia da lui sia da Ken Schram vabbè ma soprattutto ragazzi adesso poi vi lascerò un video chiudere di questo video un uomo di una simpatia incredibile Troy Baker veramente è stato simpaticissimo e ripeto lo vedrete vi lascio qualche magari spezzone nei video che ho fatto con il mio cellulare così ve li lascio un attimino a fine video quindi non andate via ma è stato un evento veramente 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 bello mi è dispiaciuto un pochino non averlo saputo prima che c'era anche Troy Baker perché mi sarei portato la mia copia di The Last House e me la sarei fatta bellamente autografare a saperlo però non lo sapevo in compensa è stata una gran bella sorpresa oltre a questo poi ovviamente c'erano tutti i ragazzi di multiplayer visto che comunque l'evento era coorganizzato da loro perché dovevano fare anche un annuncio l'annuncio che intanto l'avete già visto questa mattina sulle pagine di multiplayer è la applicazione di multiplayer.it per PlayStation 3 e PlayStation 4 è un'applicazione di cui è stato mostrato una piccola demo sembrava molto fluida molto bella molto comoda e ben studiata sinceramente ora vedremo come funzionerà l'applicazione dovevo uscire martedì quindi oggi in teoria forse non so quando andrà su questo video comunque dovevo uscire a inizio della settimana e tramite questa applicazione multiplayer.it farà una rubrica esclusiva appunto per l'applicazione PlayStation che riguarda appunto il mondo PlayStation mi sembra si chiami zona PlayStation sono andando a memoria comunque sul sito di multiplayer c'è tutto adesso e poi niente anche i ragazzi di multiplayer sono stati lì insomma scambiare due chiacchiere con chiunque foto anche qui mi sono fatto la foto con Tanzan la vedete da qualche parte schermo tra l'altro sono veramente favolosi loro semplici alla mano veramente bello bella sera tutto quanto tutto bello senza contare il fatto che l'organizzazione tra l'altro era fatta al bacio perché dentro c'era un banco dove distribuivano hot dog per tutti birra e coca cola ghiacciate peraltro coca cola in vetro che ormai non si trova più in nessuna parte ed è ottima tutto gratuitamente veramente fantastico veramente un bel evento altra cosa che mi è piaciuta è che mi aspettavo in qualche modo un pubblico un po' più bimbo minchiesco cioè mi aspettavo non bambini però veramente ragazzini a questo evento invece mi è piaciuto che c'era tanta gente matura soprattutto tanta gente tra i 20 e i 30 anni sta cosa mi è piaciuta parecchio devo dire tra l'altro poche persone quindi non c'era molto casino non c'erano 100 persone al massimo perché l'evento era numero chiuso quello che ho capito quindi bello veramente veramente bello sono rimasto soddisfatto e niente questo volevo dirvi inizialmente pensavo di scriverlo su facebook però avevo tutte queste cose a dire era molto più facile di dire in un video e poi volevo farvi vedere qualche appunto spezzone dei video che ho fatto a Troy Baker mentre parlava è veramente un grande quindi vi lascio il video di Troy Baker lasciate un ah ecco volevo salutare tanto c'è un ragazzo che mi ha riconosciuto lì lo saluto se stai guardando questo video e niente video visti anche voi per caso c'eravate magari vi è piaciuto l'evento e niente ci vediamo guardate il video che vi lascio adesso e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao I travel far and wide to hang out with you guys tonight so let's make it a good party bella festa mi sembra che è stata con voi tutti qua sono contentissimo ahi faccio sentire siete contenti anche voi yes they are please all guys so far have asked questions one girl fantastic question did everyone hear was she ask ok thank you one person yay and he was applauding the hot dog that he was eating and 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 he was eating